mamma mia mamma mia quanto è strambo il varietà grazie buonasera buonasera allora quanto è strambo il varietà un varietà veramente strambo questa sera abbiamo iniziato con le canzoni adesso ci saranno dei pezzi molto divertenti e poi dei balletti insomma un susseguirsi di cose appunto tutti al varietà e allora siamo pronti per ridere no così siete mosci siamo pronti per ridere sì partiamo allora con la base signori e signori questa sera sul palco insieme a me un ritorno un graditissimo ritorno vanessa Rossi Mari sì buonasera no vai 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 con la base vai vai no ma come vai con la base passerella addirittura prego saluta i miei fans saluto i miei fans ma che sorpresa che sorpresona grazie grazie sono mi fa emozionare così noi faremo questa questa sera una parodia tante parodie perché la televisione ci ha dato tanti spunti esattamente siamo dei burloni siamo dei burloni e quindi lo spunto che volevamo farvi vedere ed iniziare è quello di uomini e donne prego bene facciamo entrare claudiano facciamo entrare valeriana scusa maria ma io non l'ho salutato senti mettiti le mani in tasca e te le metti lo stesso in tasca prima di parlare con me sciacquati la bocca non guarda questo ciao claudiano ciao maria e ciao pali in testo perché so che non sei stato molto bene ultimamente quindi ciao pali e approfitto anche per salutare i miei fans i valeriani ciao cari ma brava 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 adesso saluta pure i suoi fans ma brava cosa senti parli tu che è la cinta che non si entra niente con le scarpe proprio a prescindere innanzitutto non la cinta è a prescindere lo dice a tua sorella ma come ti permetti non ho sorelle ma che cosa vuoi ma come ti permetti tu ma guarda questa ma cosa vuoi ma senti perché non ti levi eh poi ti ti do una capocciata senti eh basta guarda proprio ti do una capocciata sembri quasi l'esorcista tu mi sembri l'esorcista cioè era il modo di dire come i due più due no quattro quattro cosa due più due quattro ma so otto si capita claudiano comunque sei stupendo cioè sei anche le tabelline comunque ciao claudiano ciao maria ciao darwin stasera claudiano io sono qui solo per te che sviolinata che cosa hai detto che sviolinata valeriana che cosa hai detto che sviolinata quello prima che quello prima prima mamma mia valeriana cosa hai detto mamma mia cosa mia madre non la tocchi io non l'ho toccata va bene non ti permetterei di giudicare mia madre e io non faccio nessuno mia madre fa quello che vuole e faccio essere quello che vuole io non faccio nessuno basta eh senti tu ti devi calmare tesoro hai finito hai finito sì voi siete il verbo smettere smettere ma claudiano ma sei meraviglioso hai anche coniugato oh buoni tutti buona regia buona recitazione io veramente ancora non ho fatto niente eh non vi inventate niente tranquillo tranquillo è tutto ok comunque valeriana tu fatti furba come fatti furba farmi furba eh sì farmi furba io sì farmi furba io sono bionda e sto benissimo bionda non ci penso neanche a farmi furba ma brava 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 comunque ho sentito nei camerini che tu avresti hai scritto una poesia beh sì in effetti claudiano oggi pensando a te ho scritto una stupenda poesia ti vuoi muovere oh devi stare zitta la gente ora che ti do una capocciata sono tre ore forza vai via la base e tu claudiano ascolta la nebbia ai dirticolli piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia del mar ferma la base ma che cosa vuoi valeriana questa non l'hai scritta tu non è tua lo sanno tutti ah no e chi l'ha scritta è l'ha scritta un grande poeta contemporaneo certamente e l'ha scritta nel 93 l'ha scritta fiorello pensa un po' a te naturalmente ma hai finito hai finito sei ridicola tanto oddio claudiano cioè ma tu mi vorresti dire che sai le lingue quindi sai l'inglese yes e il francese lo spagnolo puras ma vattene grazie 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 grazie